Puntualmente ad ogni cambio di assessore ai trasporti e con il governo Crocetta siamo arrivati già a quattro, riesplode la protesta degli ex Ferrotel, vittime anche loro della politica regionale che gioca e litica sulle poltrone da occupare, mentre la Sicilia muore giorno dopo giorno. Momenti di tensione questa mattina alla stazione centrale di Messina, quando i lavoratori licenziati quattro anni fa dai Ferrovie dello Stato in seguito alla sospensione di appalti hanno deciso di salire sul tetto dell'edificio che si affaccia in piazza della Repubblica. Ho perso la dignità di uomo e quindi, addio mondo croce, sono pronto anche a morire. Speriamo che questa gente ha la dignità di farci fare vedere anche a noi. Puntualmente in questi anni hanno incassato l'impegno dei vari assessori che si sono succeduti alla guida dei trasporti. Puntualmente hanno ricevuto la solidarietà e la promessa da parte delle FS della ricollocazione in altri settori, grazie all'ormai nuovo contratto di servizio che sta per essere firmato. Speriamo non si tratti di una leggenda, visti continui rinvii e ritardi tra Trenitalia e Regione. Puntualmente però questi lavoratori, 30 in tutta la Sicilia, sono rimasti a spasso e negli ultimi tempi senza alcuna tutela ed ammortizzatori sociali. Questa mattina hanno chiesto l'ennesimo incontro, vogliono parlare con il nuovo assessore Giovanni Pistorio ed hanno sollecitato pure l'intervento della Prefettura.